Il Consiglio dell'amministrazione della nostra banca ha approvato l'utile per questi primi sei mesi del 2022, che ha superato anche le nostre rose aspettative, superando i 4 milioni e 3, che è addirittura più alto dell'utile che abbiamo fatto per l'intero 2021. È un risultato veramente molto soddisfacente che tutto il nostro Consiglio e il Direttore Generale hanno veramente voluto sottolineare, perché sono appunto solo sei mesi in questo anno che possiamo definire post pandemia, sicuramente ancora forse più difficile per certi versi e tutti i numeri in realtà della nostra banca sono fortemente in crescita. Al 30 giugno abbiamo una raccolta complessiva, quindi i fondi che noi abbiamo dai clienti pari a 965 milioni di euro, quasi un miliardo quindi, in crescita di 25 sempre in sei mesi e un altro dato che ci piace evidenziare è che addirittura i finanziamenti a clientela, i soldi che noi abbiamo messo sui territori dove siamo, sono pari a 565 milioni di euro, addirittura superiori di 35 milioni in sei mesi rispetto a fine 2021. Questo vuol dire appunto che abbiamo continuato ad investire sul territorio. Noi siamo molto attivi per quanto riguarda la comunicazione, ma c'è una strategia ovviamente dietro, una strategia comunicativa studiata e ben pensata. Noi abbiamo sempre voluto comunicare i dati della nostra banca e quello che facciamo, perché dobbiamo ricordarlo, siamo la banca del territorio e quindi noi dobbiamo questa trasparenza appunto alle persone che entrano in contatto con noi, ai clienti che si fidano di questa banca. Noi l'abbiamo ripetuto tante volte, perché diciamo sempre, parliamo sempre di numeri, perché crediamo in uno slogan, noi vogliamo comunicare fatti, non parole e un utile così elevato è veramente un fatto che deve rendere appunto orgogliosi tutti i territori in quella nostra banca opera, perché l'utile non è un concetto astratto, l'utile serve appunto ad un'azienda per crescere e diventare più solida e avere più ovviamente solidità patrimoniale per poter operare sul territorio. Accanto a questo ovviamente c'è un altro dato che ci caratterizza e lo abbiamo anche comunicato, c'è il dato delle sofferenze nette, cioè i crediti che vanno male, oggi a noi sono pare solamente allo 0,1% degli impieghi complessivi a testimonianza della solidità della nostra banca. Quando si ottengono dei risultati così positivi in termini ovviamente di crescita, delle grandezze appunto di raccolta impieghi, di utile, è perché comunque c'è una struttura, c'è una struttura organizzativa ben collaudata che funziona, tutte le aree funzionano in determinato modo e questo ti consente ovviamente di poter elaborare delle strategie diverse per i singoli territori. Noi bene o male operiamo in quattro aree diverse, della provincia di Salerno e di Potenza, e quindi dobbiamo strutturarci in modo tale da poter diffondere il nome della Montepruno ma interagendo con persone che hanno abitudini, modi di fare comunque un po' diversi. Il segreto appunto è che riusciamo a parlare con le persone, a essere dinamici e flessibili in questo caso e a poter interagire con loro e poi alla fine questo ti ritorna indietro come abbiamo sempre detto perché i numeri dimostrano la nostra crescita e se cresciamo possiamo investire di più sul territorio come abbiamo fatto anche ultimamente aprendo nuovi punti con gli ATM evoluti oppure con la ristrutturazione delle filiali che stiamo facendo. Il nostro essere in Montepruno è questo, parlare con le persone, essere vicini ai territori mettendoci sempre la faccia in maniera trasparente. Abbiamo messo sempre la faccia su quello che abbiamo fatto quando magari i numeri erano meno performanti di adesso, oggi siamo ancora più contenti di farlo con questi performance. Alla fine fare banca significa dare fiducia e ricevere fiducia da loro naturalmente perché solo in questo rapporto di reciproca collaborazione alla fine si ottengono dei risultati positivi e dei successi per entrambe le parti.